Qual è la tua parola straniera preferita? Prima! Opa! Krass! Realizza un cortometraggio sulla tua parola preferita in una lingua straniera. Inviacelo e condividilo con i tuoi amici. Puoi vincere un viaggio per due persone a Berlino, uno dei cinque iPad mini o tre mesi di abbonamento per imparare le lingue con Babbel. E quindi, qual è la tua parola preferita? Einshönchen, einshönchen, einshönchen. Kikje Erbsen. Gång. Vai su bubble.com slash competition e tenta la tua fortuna al gioco!